Sai come si chiama questo quadro e chi l'ha dipinto? Il dipinto si chiama Alma, ed è un dipinto a olio su legno del 1895-1900 circa, del pittore americano Thomas Wilmer-Jewin. È nella collezione dello Smithsonian American Art Museum. Thomas Wilmer-Jewin amava le donne intellettuali e spiritose e una volta scrisse che tutto ciò che chiedeva ai suoi modelli era che avessero cervelli. Sua moglie, Maria, credeva che i suoi tipi preferiti di donne possedessero una delicatezza della forma che ne amplificava la spiritualità e l'intelletto. Alma Allen era una di queste modelle e in questo ritratto Dewing ha enfatizzato questi tratti concentrandosi sul suo collo lungo e sull'espressione pensierosa piuttosto che sulle curve del suo corpo o sulla trama del suo vestito.